troppo largo, troppo scollato, troppo pesante per essere estivo questo è un regalo che non ho mai indossato, troppo stretto questo l'ho messo ad un matrimonio bellissimo però è macchiato irreversibilmente, non lo metto da un po' di tempo questo nell'ultimo anno non l'ho più indossato, questo ha il tessuto tutto rovinato questo ormai è bucato, ha fatto i pallini, direi di no questo è spaiato, insomma ma quanti sono in realtà i capi che indossiamo realmente? cioè quelli che ci fanno sentire bene, quelli che ci fanno proprio sentire a nostro agio quelli che scegliamo al volo, che indossiamo senza pensarci due volte ma se tu in questo momento dovessi scappare prendendo solo una valigia e dovendo mettere nel minor tempo possibile i capi che hai in casa quali ti porteresti realmente? ci hai mai pensato? io sono Vanessa e ti do il benvenuto sul canale Van Education queste sono le domande che mi pongo per riuscire ad avere un armadio al 100% in linea con le mie preferenze con la me di oggi, perché chiaramente noi tutti cambiamo e necessariamente abbiamo bisogno anche di cambiare gli indumenti io ad esempio nella mia vita ho cambiato diversi ruoli, soprattutto a livello lavorativo e quindi è capitato che avessi dei periodi di transizione e dei periodi in cui ho dovuto acquistare dei capi nuovi però in linea di massima io mi pongo sempre delle domande per riuscire a capire se di quel determinato vestito, indumento, accessorio ho assolutamente bisogno e necessità e poi faccio continuamente dei cluttering cioè significa che periodicamente cerco di... cioè tiro fuori le cose dall'armadio cerco di fare una selezione e di capire se negli ultimi sei mesi o nell'ultimo anno in base alla stagionalità sono riuscita effettivamente a indossarlo e se l'ho indossato anche in più occasioni ma poi mi pongo anche la domanda precedente cioè quali sono quelle cose che mi fanno sentire proprio a mio agio per cui le prendo al volo dell'armadio senza doverci pensare due volte e che proprio mi fanno stare bene sia in base ai colori ma in base anche alla comodità alla funzionalità, a quello che sto andando a fare in quel determinato momento un momento... ma Alexa per favore adesso voglio darti una serie di suggerimenti che io stessa ho utilizzato, ho messo in pratica che ti possono essere davvero utili per avere un armadio abbastanza minimal e non troppo caotico e con cose che si accumulano in continuazione perché l'idea non è quella di avere dieci capi da abbinare con colori neutri possibilmente bianco e nero come magari è un po' il motto diciamo dei minimalisti no, in realtà l'obiettivo è quello di non avere robe che ti escano fuori dall'armadio ma anche cose insomma averne abbastanza per tutte le varie occasioni che ci sono quindi iniziamo subito con dei suggerimenti che io trovo veramente veramente utili prima di acquistare assicurati che il tessuto sia di qualità o perlomeno che non sia troppo pesante, difficile da abbinare, fastidioso, ingombrante magari difficile anche da lavare ma soprattutto assicurati che davvero ti serva io faccio sempre così io non acquisto durante i saldi ripeto, a meno che abbia davvero necessità di qualcosa ma in quelle occasioni è sempre più facile spendere più del dovuto magari ancora di più di quanto avreste speso se fosse andata in periodo non di saldo ma per un preciso capo quindi ne prendo uno che magari costa di più ma quando vado ai saldi di solito ne compro molti di più magari a un prezzo inferiore però non è neanche detto che sia una buona qualità e non è neanche detto che siano magari le cose che davvero cercavo che sono in saldo in tal caso se cercavi ad esempio una felpa e l'hai vista che comunque sai che ti serve e sarà poi in saldo va bene, ok, ci può stare ma una sola cosa fare decluttering periodicamente e assicurarsi che ogni abito o accessorio abbia il proprio posto quindi è inutile avere cassettoni e cassetti che non si aprono da quanto sono pieni ma piuttosto assicurarsi insomma di avere ogni cosa al proprio posto e il decluttering periodico è fondamentale io lo faccio all'incirca ogni 2-3 mesi oppure più o meno al cambio di stagione quando so che magari qualche capo l'ho indossato per l'ultima volta oppure quando so che ci sono dei capi che magari per quella stagione non li ho usati e quindi molto probabilmente vanno imbarcati e infatti una cosa che io faccio spesso è verificare di averlo indossato negli ultimi 6 mesi oppure nell'ultimo anno se si tratta di un capo stagionale questa è una cosa che aiuta tantissimo andiamo soprattutto a capire effettivamente se quella cosa lì non la indosso perché non me la vedo bene addosso o se è una cosa che è troppo difficile da abbinare o magari a me è capitato di avere vestiti troppo pesanti per essere estate magari sono vestiti estivi ma decisamente fanno sudare sono troppo ingombranti e la stessa cosa in inverno magari dei maglioni troppo spessi che magari non utilizzo o che potrei utilizzare all'esterno ma invece se fossi in casa o all'interno risulterebbero davvero troppo pesanti io cerco di non avere anche troppi capi di una stagione o dell'altra cioè preferisco avere più combinazioni di capi magari neutri o comunque anche se sono colorati che siano facilmente insomma indossabili in tutte le stagioni e utilizzo piuttosto l'aggiunta o meno di accessori o indumenti tipici della stagione cioè ad esempio se ho un vestitino lo posso utilizzare magari sia in estate che in inverno solo che in estate magari lo utilizzo così semplicemente con un sandalo con delle scarpe mentre invece in inverno potrei utilizzarlo con delle calze o con un maglioncino insomma adattato alla stagione quindi preferisco avere meno capi specifici per la stagione quindi magari ho pochi maglioni che utilizzo proprio in quel mese o due in cui nel mio caso dove abito io non fa così tanto freddo quindi non ci sono otto mesi di freddo e la stessa cosa per l'estate ho pochi vestiti che utilizzo in particolar modo al mare o nelle giornate praticamente super 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 calde e poi un'altra cosa che mi aiuta tantissimo un altro suggerimento è quello di scegliere colori della propria palette quindi colori che insomma sappiamo già che stanno bene nel mio caso ad esempio sono i colori prevalentemente autunnali però io utilizzo anche altri colori che mi fanno stare bene mi fanno sentire a mio agio per quanto riguarda le fantasie io direi di lasciarle a chi davvero le indossa cioè io non sono contro le fantasie a me piacciono anche quelle floreali e le indosso infatti però devono piacere e bisogna essere convinti non solo perché li abbiamo visti ad altre persone perché rischieremmo di indossarli una volta e poi di accumularli nell'armadio un'altra cosa che io faccio quando faccio decluttering cerco sempre di suddividere i vari capi tra quelli che andranno a altre persone quindi che daranno loro nuova vita e quindi li dono e li cedo oppure quelli che sono effettivamente usurati da buttare che possono finire in discarica cerco sempre di verificare appunto che se li dono abbiano comunque un buono stato in passato mi era capitato anche di venderli in particolare modo magari in mercatini vintage piuttosto che magari mercatini di dell'usato però ultimamente con le mie tempistiche lavorative diciamo che non ci sto più dentro e quindi preferisco donarli e spero tanto che tu insomma riesca a trovare la tua combinazione perfetta per un armadio top e anche per riuscire a donare e buttare il meno possibile quindi avere anche capi di qualità che magari durano più a lungo e per più tempo io spero tanto che questo video ti sia stato utile e che da oggi in poi iniziare a fare un po' di decluttering ad avere un armadio super mega top in base alle tue preferenze alle tue esigenze se il video ti è piaciuto ti invito a lasciare un like e iscriverti al canale e magari lasciami un commento per farmi sapere a che punto sei tu con il tuo armadio ci vediamo in un prossimo video ciao ciao al volo Alexa stop Alexa stai zitta e iscriviti al canale